Signore, se ci sei fatti conoscere, è la preghiera che sgorga dal cuore nel momento in cui comincia a vacillare il suo ateismo, orgogliosamente professato. A spingerla alla deriva era soprattutto stata la morte del fratellino Enrico, di appena nove anni, avvenuta il 27 febbraio 1920, non ancora a sedicenne. La mancata elaborazione di tutto questo lutto l'ha portata a convincersi che l'esistenza di Dio è inconciliabile con il dolore innocente e che solo il nulla ci può essere dopo la morte. Dopo un'adolescenza tenacemente atea, si riavvicina alla fede durante gli anni dell'università, grazie all'aiuto di due sacerdoti genovesi e grazie anche alla federazione degli universitari cattolici italiani, alla quale nel frattempo si è iscritta. Determinanti per la sua formazione spirituale sono alcuni incontri in seno alla Fucci, con il giovane Montini, sarà il futuro Paolo VI, il cardinal Schuster, padre Gemelli e don Divo Barsotti. Laureata in lettere, la sua carriera di giovane insegnante è sconvolta da un evento verificatosi a Pontremoli, il 3 agosto del 1928. Dal tabernacolo riceve un raggio di luce e il messaggio divino, tu la farai conoscere. È la prima eruzione di Dio nella sua vita, cui seguiranno tante altre che fanno di lei una delle più grandi mistiche italiane del Novecento. E' costretta a rinunziare sul nascere alla vocazione benedettina a causa di una febbre persistentemente altissima che la colpisce sino dall'inizio del 1929 e che sembra portarla alla tomba. Si riprende invece contrariamente ad ogni previsione, pur continuando a essere fragile e cagionevole di salute, al punto da dover lasciare la cattedra di Milano e rientrare alla spezza nel 33 e quattro anni dopo lasciare l'insegnamento. Nel 33 conclude anche il noviziato benedettino con la professione come oblata del monastero in San Paolo, fuori le mura a Roma. Pur continuando a restare nel mondo emette così voti di povertà, castità e obbedienza, cui si aggiungono il voto del più perfetto, che consiste appunto nel ricercare sempre l'azione più perfetta da fare. E infine quello dell'impegno a diffondere la verità della inabitazione della Santissima Trinità nella nostra anima. Anzi, quello dell'inabitazione diventa il suo carisma specifico, grazie al quale riesce a vivere una particolarissima intimità con Dio, uno e trino. Scrive, la volontà di Cristo, che io sento imperiosa nel profondo della mia anima, è di trascinarmi, di immergermi con se stesso negli abissi della Santissima Trinità. È inutile cercare altre vie. Questa è quella che Egli ha scelto per la mia santificazione. A partire dal 36 si fanno sempre più frequenti le sue estasi, visioni e messaggi della Santissima Trinità, che si accompagna a spibranti persecuzioni diaboliche, quasi a conferma che la spiritualità da lei perseguita procura molto fastidio al demonio. Tutto vive con straordinaria umiltà e carità, nella certezza, come scrive, che vivere l'inabitazione non è una cosa straordinaria, ma logica conseguenza del nostro battesimo, perché sarebbe un grave errore credere che il richiamare le anime a nutrire di questo mistero adorabile la loro vita sia il richiamarle a una devozione speciale, e piuttosto in invitarle a vivere della grazia che il battesimo ha loro donato. Il suo pensiero e suo affetto, di giorno e di notte, nel lavoro e nel riposo e nelle lunghe ore di preghiera, è sempre rivolto a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che abita nella cella del suo cuore e la sua sensibilità spirituale si affina al punto che lo stesso peccatore, beniale e l'imperfezione avvertita le appaiono molto più gravi di quello che prima pensava. Anche un piccolo no all'amato, posseduto in ogni istante, le sembra ben triste cosa in quanto tradire la nostra vocazione alla santità e anche tradire tutti coloro la cui salvezza è legata alla nostra immolazione. Dopo la parentesi della guerra, che la fa sfollare insieme ad altri a Barbarasco nel 46 ha la prima intuizione della famiglia sacerdotale ancora oggi attiva, formata da sacerdoti e diaconi che lavorano in modo particolare per far conoscere alle anime la grazia della inabitazione e per condurle a vivere in conformità con il loro battesimo. Italamela muore il 29 di aprile del 57 e i suoi resti mortali riposano dall'83 nella cripta della cattedrale di Cristo Re alla Spezia, sua città natale. La causa della sua beatificazione, avviata nel 76, ha raggiunto a giugno del 2014 il riconoscimento delle virtù eroiche e il 10 giugno del 17 è stata beatificata. Ecco, ringraziamo naturalmente come quasi tutti i giorni il sito santiabbiati.it e l'autore di questa piccola biografia, Giampiero Appetitti che ci ha illustrato questa piccola santa, questa grande mistica naturalmente essendo questa rubrica formata da circa 10 minuti mediamente per non entrare nella lunghezza e forse annoiare anche gli ascoltatori consiglierei appunto attraverso le ricerche fatte su Google di amplificare e di entrare comunque più nel dettaglio di questa peata di questa mistica, visto che appunto lo stesso biografo ne cita un grande profilo spirituale anzi forse uno dei più grandi profili spirituali quindi vi invito appunto a seguire molto meglio quelle che sono le possibili linee guida che può dare appunto questa santa mi voglio fermare solo ed esclusivamente ad una frase che è stata citata che praticamente, come dire, parla del tradimento il tradimento che noi facciamo non solo all'amato ma anche alle persone anche un piccolo no all'amato posseduto in ogni istante le sembra ben triste cosa in quanto tradire la nostra vocazione alla santità e anche tradire tutti coloro la cui salvezza è legata alla nostra immolazione ecco quindi a prescindere da tutto quello che noi possiamo dire noi possiamo fare noi possiamo interpretare delle sacre scritture questa rivelazione di questa mistica è alquanto importante terribile e molto veritiera ricordiamoci sempre che tutto ciò che ci capita a noi nel bene, nel male ma soprattutto nel male in questo caso lo specifica nell'immolazione è direttamente legato alla salvezza delle altre persone quindi tutte le volte che noi ci tra virgolette lagniamo di una negatività di una poca sopportazione di una croce troppo superiore a quelle che sono le nostre aspettative ricordiamoci che in quella croce c'è la salvezza non solo nostra ma soprattutto degli altri ricordiamoci sempre che ogni cosa che Dio toglie alla nostra libertà alla nostra vita lo dona qualcun altro l'ho ripetuto decine di volte non mi stanco ripeterò ancora una volta la Madonna Fatima disse appunto ai pastorelli la gente va all'inferno perché appunto non ci si sacrifica ma sacrificio non è solo quello che Dio ti toglie mettendoti la croce ma il sacrificio è proprio l'offerta che quella mancata offerta che noi non facciamo ogni volta che ci capita una cosa negativa i grandi santi hanno fatto un grande passo in avanti ma non è stato un passo che potevano fare solamente loro è stato un qualche cosa che possono fare tutti ovvero mettere Dio ovunque e comunque anche nei momenti più tra virgolette normali davanti a un piatto mentre stai pranzando infatti come ho messo ieri nel pensiero di Padre Pio che diceva appunto di come Gesù sia presente in quel momento di come offrire anche quello che è il nostro il nostro alimento del corpo che non vada a travalicare quello che è l'alimento dello spirito via una relazione incredibile amerai il tuo Dio come te stesso con tutte le forze con tutto quello che hai quindi il precetto grandissimo del nostro essere quello quindi mettere il Signore Gesù sempre e comunque in ogni momento della nostra vita soprattutto nei momenti peggiori perché è proprio lì che lui ci chiama è proprio lì che lui ci dice figlio mio io ti dono questa croce affinché tu mi possa donare i tuoi dolori e io possa renderli veramente gioia per la vita eterna non solo per te ma soprattutto per gli altri grazie